Al Pazzagli, dopo oltre 20 stagioni, la San Giovannese testerà domenica le velleità di una matricola, il Grassina, che ha vinto nell'ultima uscita in casa del Monterosi e che dunque potrebbe già aver passato la classica crisi da inizio stagione per il salto di categoria. Il Marzocco si presenta a questo impegno senza problemi di formazione e con ogni probabilità anche con una forte ripetizione rispetto all'undice che ha sconfitto la quotata aglianese al Fedini. 4-3-1-2 dunque nel quale si parte dall'asse composto da Scarpelli in porta, Scoscini e Rossetti in difesa, Martini e Muscas a centrocampo e le due punte Mencagli e Guidotti. Gioco forza a questo punto, gli altri quattro devono essere giocatori in quota, con ancora presumibile Tafani e Rovai come cursori bassi, Baldesi come mezzala a sinistra e uno tra Condai e Torricelli a svolgere il ruolo da trequartista con staffetta possibile a seconda dell'evoluzione dell'incontro. La San Giovannese giocherà comunque in casa, prevista una carovana di auto al seguito, anche per mantenere alto l'entusiasmo in vista del derby di domenica 29 settembre, appuntamento principe della stagione per la gradinata Sestini.